Allora, fai che buone... Eh... Eh... Voi sapete al signor del senato... Sì. Allora, tu pu** mandato, fai che buone... Aspettato il mani d'opero... Voi sapete qual è la differenza una mamma Marta e un bitocchi? Ora vengono a distrenza con un braccio e un bitocchi e non sei qual è la differenza io vengono, vengono a cantare. E fono a casa era il mio primo. Poi ci siamo e tal, io ho detto che stiamo a fare campisca. A fare campisca, dormiamo nella stessa tenda. Ossia, andiamo a rarca. E il mio seguito di manhã era venuta per me imitare. Alla sera avantiare. O mio eserciare per il Xperti e per il Canal Marte. Poi a gente. Ok, ma chi è che che la traga per il Canal Marte. Ora, per esempio, stai a buona. E estes cari, 2 meias di leite, una per me e una per te. E 6 doni, 3 per me e 3 per te. E se volessi sentar, che la mia mamma è una loncione.